Non ha interagito con nulla, no? Dovremmo cercare nascondigli, però. Sei qui? Dove sei? Quanti anni hai? Dove sei? Sei qui? Dovremmo cercare la stanza infestata, in realtà. Però ancora non ha interagito. Dobbiamo cercare se c'è l'oggetto... Bravo, bravo, è vero. Allora, bravissimo. Non è vero. Questo il rumore? L'ho sentito solo io? Sì, non sento niente No, no, mi sembrava di sentire Altro Sto controllando se c'è qualcosa Ma perché non troviamo mai? Mi sa che ci sono degli spot standard Dei oggetti comunque Io sono giù di sotto Non sento Un piatto? Fagli una foto Chero Vieni qua, vieni qua, fagli una foto No, non più, non più, non più È scaduto Oh Fai una foto a sta porta Chero, vieni a fare la foto a sta porta Questa Non hai la fotocamera? Segui con noi Dove sei? Quanti anni hai? Ho aperto una porta, ho chiuso, non lo so Ho sentito una porta Ah qua, qua, qua Dove sei? Sei qui con noi? Ma quanto cazzo sta... Ok Non l'ho visto? No, neanche io Ma è un evento sto qua Non si stava sfriggendo la foto? No, ancora si sta sfriggendo Guarda il dots Boh Hai la fotocamera Chero? Ok Com'è che si chiamava sto gioco? Fantasphobia Fastphobia 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 Quello Dove? Vedete che gli faccio una foto, dove? Sulla porta La presa Nice Eh mi sa che... Oh Non so dove... Oh mio dio Prima volta che vedo le impronte Anche qua c'è Questo non c'è più Dove? C'era e non c'è più Ehm... Ma incredibile Ah sì mi sono mutato per sbaglio scusa Ma è assurdo che non troviamo... Il course item Chi è che fa sto rumore su Discord? Madonna che paura Santo Dio Ma io non lo svegli Oh c'è la music box Chero Vuoi divertirti? Mi hai scivolato il microfono No Il course item Hai chiuso la porta? No No? Ok Non ho spento la torta Torcia porca madosca Che razza di stupido che sono Che è successo? Sì ma porca troia Non ho spento la torcia Non la chiuso bene Sei morto anche tu Chero? Sono tipo fantasma adesso? Sì ma sei morto anche tu Chero? Niente Finisce la partita C'è L'impostore Ah giusto Chero mi senti? Farò nella spirit box Accesa Oh ZO Ma quindi lui sente voi? Cioè sente voi? Ok Vabbè Molto unlucky Penso che mi andrò Eh boh non si sa mai Facilissimo Ha indovinato il poltero Facilissimo l'ho preso Facilissimo Va bene Madonna Madonna 2 dollari ho fatto Porco dio 85 dollari Ah perché ho scoperto Il fantasma Sì No ma c'era Chero C'era la music box Dio caro Appena l'ho presa in mano E' partita la caccia Che due palle Ma aveva detto qualcosa E' che sei morto Ma con niente Lo stesso soldi Come che ero? Ha detto qualcosa Qualcosa Ah no La music box No niente Ok E' un course Solo che non l'ho fatto Neanche partire Perché è partita la caccia Vabbè che è una merda La music box Praticamente fa partire la caccia Cioè se la suoni Vabbè che Però poi Non so cosa faccio Cosa Che metà facciamo? Ma comunque Io il dozzo L'ho lasciato in casa Ma ce l'ho ancora Quindi Non so Boh non so neanche io Va bene Va bene così Va bene così Ah è vero Volevamo prendere Una torcia forte No Io Io la mia roba L'ho persa Chero quindi Io ce l'ho Una torcia forte Ce l'ho Una torcia forte Mi la metto Va bene Va bene Io non ho un cazzo Prenditi una torcia forte Ah ma ce l'ho anche Torcia potente Ma non lo so Secondo me Non lo so Non ho capito bene In base a Verdi Torcia potente 2 Buon Via Andiamo Posso prendere Pillole Metto una pillola Per la sanità Ok Vole andiamo Dai ma ci sta Professionale È solo un po' Da capire Allora io L'ho indovinato Facilissimo Facilissimo Ma qui Viva la mamma Cioè avete le tasche da fare E si Niente Dobbiamo Scovare Sto cazzo Di Di Cosa Di Fantasma Sì Era il secondo Sì L'hai preso Un giocatore O un NPC È un NPC Sì Sì Che ruolo Che ruolo Preso io Seconda torcia Dici Dici Aspetta questa Che casa È tipo quella Di merda Quella Ok 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 Ho capito Ho capito Ma quella Dove Uptin Esatto Mentre Ma in realtà Non è male Andiamo a accendere il breaker Subito Dov'è che era il breaker che ero? Non lo so Non mi ricordo Di sotto? Sei nel garage No sì Di sotto Di sotto Di sotto Di sotto A sinistra A sinistra Nice Nice Ma qua sotto Non c'è la luce? Sì Mi sa di sì Dove cazzo Accende Non accendere troppo No 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 L'impostore È un NPC Beh sì Beh ripeto Le mie domande Quanto? Sì dimmi Che no No così Sono Nella stanza Eccomi Non abbiamo ancora avuto Alcuna interazione Vado di sopra Vado su No io a zero Vengo su anch'io Vengo su anch'io Vengo su anch'io Ti sento su discord Dove che no No Non so No No Non c'è un cazzo Qua c'è un nascondiglio Bene Dove sei tu? Ecco ti Hai trovato Curse diet Curse cosi Qua c'è un altro nascondiglio No niente Torno giù Magari c'è il summoning circle giù di sotto e non l'abbiamo visto E nel garage o non l'ho visto? No forse è giù di sotto Non c'era Non c'era niente E nel basement dico Provo a andare nel basement Bene Ma donna Ma non capisco Perché non vi si spegne la torcia? Vabbè Dai ma che palle No ma adesso devo capire che cazzo di oggetto c'è Dio caro Non è possibile che non c'è niente Ma questa mappa fa così schifo Ah forse c'è lo specchio Ecco Bob dichiaro che viene ucciso adesso No si va a nascondere Lui è bravo No si va a nascondere Madonna se si è cacato caro Ehm Chissà che Chissà che non si indovina questo Ma che cazzo di oggetto c'è Io voglio vedere gli oggetti Non si va a nascondere Facciamolo Una strisce Boh Ci rinuncio Seriamente Mi è partito il furgone Ho sentito il furgone che ci scende Che ridere Madonna Zero profit Noo almeno 50% Cazzo Abbassiamo un po' la difficoltà direi Dai Intermedio Ma almeno sei in vita tu Madonna ma rimanere da solo Tra burrutto Tra burrutto Grazie a tutti Grazie a tutti